Con questo video, care matitine, permettete un omaggio alla terra che ha visto i miei Natali per opera e grazia del Signore. Questa probabilmente non è che una leggenda ma per me è ciò che rappresenta una terra fatta di cielo, di terra e di mare e che porto nel cuore ogni giorno. Grazie Signore per aver creato la terra dove mi hai posto per poter nascere a questa vita. Il suo nome era Icnusa. Con questo nome venne infatti chiamata in origine la Sardegna, parola che in greco antico significa orma. Narra infatti una leggenda che il Signore dopo gran fatica della creazione, prima di riposarsi, trovò ancora un mucchio di pietre granitiche e le sparse sul mare, che si stendeva solitario e splendente ad ovest del Tirreno. Premette il piede calzato sui ruvidi sassi e sollevatolo guardò il segno. Si compiacque dell'orma impressa, sorrise soddisfatto e disse la chiamerò Icnusa. Forse quasi in colpa che l'avesse fatta da un avanzo, decise di abbellire quella terra. Si sollevarono allora colline e montagne, bastioni di granito e di basalto, pietre di forme strane, pianure ondulate. Lungo i fianchi delle colline e a valle crebbero ad un suo cenno sugheri, lecci, agrifogli, mirti e corbezzoli splendenti, tassi, forti ginepri e lentischi. E nei campi fu un biondeggiare di spighe e i greggi potevano brucare erbe fresche e profumate. Il Signore sorrise nuovamente della sua opera e pensò, gli uomini che abiteranno quest'orma saranno pastori, agricoltori e minatori. Il mare è pescoso, l'acqua dolce serpeggerà ovunque, gli animali selvatici avranno rifugio e cibo tra le rocce. Il canto degli uccelli e lo sgorgare delle acque nelle fonti saranno parole di poesia, parole d'amore per la bellezza del luogo e per la propria donna. A lei dedicherà i versi più appassionati, per lei con i coralli e i granati fabbricherà monili in filigrana. La donna, dal canto suo, sarà custode assidua del focolare, premurosa e vigile compagna, filatrice e tessitrice infaticabile. Trasse un sospiro l'onnipotente e l'alito divino corse per la terra appena creata. Era tardi, le stelle e la luna stavano per spuntare. Chissà, pensò mentre una ruga gli solcava la fronte, se i miei desideri saranno ascoltati e se questa sarà la terra di un popolo libero e felice. Anni, secoli, millenni sono trascorsi dalla creazione e anche lì su quell'isola si sono costruiti villaggi e città, si sono aperte strade, si sono combattute battaglie e guerre, si sono innalzate torri e ciminiere. Anche lì, come altrove, ci sono segni delle abitudini e degli eventi eccezionali. Sono rimasti però ancora visibili i segni di quell'antica bellezza che il Signore volle donare a Icnusa, meravigliosa terra che oggi noi tutti chiamiamo Sardegna. Doveroso un abbraccio a tutti i fratelli e sorelle nella fede che abitano in quella terra di paradiso e un ringraziamento a Dio Padre Onipotente per aver creato questa meraviglia sulla terra. Io vi saluto, vi abbraccio, la vostra piccola matita del cuore. Siamo in tempore di tiranias, infamidades e carezzias, come i nostri popolos cascan checane, di tiranias. Grazie per la visione!